ciao a tutti ragazzi siamo qui alla coi sono veramente felice di fare questo video questo è lorenzo ospite speciale dentro questa grandissima poveranza tra rimasti a vedere am vi aggiorniamo un pochino siamo saltati avanti un pochino di anni siamo nel 2011 e adesso stefano ci illustrerà insieme a lore cosa e quanto ha realizzato questo mazzo lascia la parola a lui vai allora chaos dragon mazzo fortissimo mazzo di draghi ovviamente siamo già a 30 secondi 3 light pulsar carta basa del mazzo come lore conferma si evoca bannando light and dark si rievoca scartando light and dark 2 dragon fiamma nera perché solo 2 perché non serve a un cazzo non serve solo da fare extender fa finta di bannare cose ma non ce la fa va bene viverna per fare è bannata l'ho detta l'ho detta abbiamo riso dai va bene viverna per vincere dopo 1 a 0 e rubare la partita con il trick e ha da drago ogni tanto quando vuole dai due red bellissimi che realtà sono jump perché ai tempi era liceo usare le jump dai figa sbaglio altro ripar drago dad dad quello vero il padre mi picchiava comodo di merda non serve a spagnolo questo si fa per 66 riparte extender due truppe della carta mamma mia è fortissimo sto mazzo veramente bello mille 3 poi ti schiama tanto subisci danno hai per caso chiamato dante reparto l'hylord 3 lila fedele alla luce madonna sono alti metti in prima sono alti leggeteli la profile e il titolo della profile se pensate che non siano alti metti in prima il mio mostro preferito ricol cane figo saperico passo saperico passo best partenza minchia dio ragazzi best partenza aneddoto volevo giocarne solo 2 sono andato a farmi 40 minuti di mezzo andare 40 tornare per prendere il terzo mamma mia non interessa nessuno 3 tour guide from the underworld oh belle belle perchè serve questa fare come incredibile per evocare sanghan e fare zemaynes a mollapash o solo sanghan era la pazienza più forte reparto caos dls a vera uo stregone uo stregone si esatto sempre questo sempre bene reparto entraco minchia non c'è niente oh mamma emissario dell'oscurità adesso quando ti attaccavano così ti chiedevi chi attacca per primo tu non vuoi passare 2 stragoedia mamma mia però potevi prendere ultimate questo per esempio è quello più ufficiale mail sono ultimate ma che domande faccio farlo su bidatour va bene i nuboli vendiamo stasera e facciamo una serata nera reparto spell carica della brigata della luce ma perchè mole? vabbè dai vai 3 ricarica solare madonna troia molto bello molto bello sorride e 4 macinate per i dragoni va bene che ci portavi? fgd va bene la santa triade reborn tempesta d'arco mamma mia a guerra oscuro adesso vedremo i commenti di quelli eh ma il reborn non è quello minto del mio video eh questo quello originale in prima si ma tanto i commenti li fanno da sotto i conti ma ci rendiamo una calma giù tipo ma un fashion dell'oscurità per far finta di pescare sai che però non lo vedo eh percodio ma vedo le ultimate vai avanti perchè anche se va questo lo dicono i poveri no letto ultimate non si capiva un cazzo ultime due carte vai lancia proibita mi piace lancia proibita mi piace eh si perchè se lo fanno su rabbit è un casino è un casino l'extra totalmente a cazzo questo è l'unico vero coso il resto è tutto a caso le vieir utopia numero 30 per farci creature swap che bello creature swap hexabeto perchè luce pulsare un 6 gaia perchè vabbè fai finta gaia synchro player brionac ma non c'è ancora l'errata giusto brionac c'è ancora l'errata katastor questa è la carta andiamo avanti il commento di quello ma non è ultimate scrab dragon anche quelli che c'avevo anche i tempi antica sacra viverna per finire le partite va bene mi piace mago di arcanite e la combo tk dei tempi combattente colossale il braccio a senare ti lo metti nel fondo dal lavoro e questo sono i guanti del lavoro la sai non c'è fatta che c'è il cazzo di eccola la sai che non c'era i tempi tre droplet tre impermanence tre impermanence prosperity per vedere impermanence si ci sono i coglioni allora la profile di poveranza è finita ragazzi vi salutiamo un attimino sempre dalla coi sempre dal vostro buon nico dal vostro buon loro stefanone e anche da pit e ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video vediamo se non lo so neanche io se trovi una trave mi impicco quello può essere perfetto ciao ragazzi ciao 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 ragazzi ciao